Sono Luigi Bononate, professore emerito di relazioni internazionali nell'Università di Torino. Ho insegnato anche a lungo nella Facoltà di Scienze Strategiche e nella Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Sono socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze e qualche anno fa ho avuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per i benemerici della cultura e dell'arte. L'occasione di questa conversazione è un anniversario, quindi un compleanno e quindi di per sé una cosa augurale. Ma è un compleanno molto lungo perché si tratta di un secolo, si tratta di tornare al 1919-1920, che sono il periodo, il momento nel quale nell'Università di Abereswitz, una cittadina del Galles, viene incardinato il primo corso di relazioni internazionali della storia. Ma se dicendo 1919-1920 non possiamo non fare riferimento al fatto che siamo esattamente alla fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. È necessario quindi fare un piccolo salto indietro di 10-15 anni per capire il contesto nel quale questa decisione maturerà. I primi 10-15 anni del nuovo secolo avevano visto svilupparsi due linee di tendenza assolutamente opposte. Da una parte c'erano tutti coloro che pensavano che la guerra ormai fosse inevitabile, che stesse arrivando e che non ci fosse modo per evitarla. D'altra parte, e ormai in effetti le spese per gli armamenti, le fabbriche di armi e di cannoni fiorivano, ma d'altra parte c'era una tendenza intellettuale, specialmente nel mondo anglosassone del tempo, che sperava che tutto ciò potesse venire evitato. Un primo esempio molto suggestivo e di grande successo allora è rappresentato da un libro di una giornalista inglese che si intitolava Niente meno che la grande illusione. L'autore era Norman Angel e la grande illusione era proprio questa, cioè che la guerra fosse una illusione, cioè che vincere una guerra non fosse un evento che rende qualche cosa al vincitore. La guerra non è un affare, la guerra è sempre distruzione e consumo di risorse, mortalità a livelli terribili e dunque è una grande illusione quella che fare le guerre sia conveniente. Su questa linea, negli anni successivi, c'è un intenso dibattito. Nel 1913, ad esempio, tanto per fare riferimento a un evento in sé significativo, un mecenate e benefattore statunitense, Andrew Carnegie, offre addirittura 20 milioni di dollari, quindi non una cifra irrilevante, a chi nel mondo si dedicherà allo studio dei problemi internazionali e per evitare la guerra. Addirittura il Carnegie Dome for International Peace, che egli fonda allora, è ancora attivo oggi e quindi si tratta di un'istituzione benemerita nel mondo di questi studi. L'intellettualità inglese, specialmente, è molto molto intensamente coinvolta nella difesa della pace. Molti intellettuali di grande livello vi si impegnano. Tra i tanti vale la pena ricordare John Hobson, l'autore del primo libro scientifico sul concetto di imperialismo, passando a un altro piano culturale, un famosissimo commediografo del tempo, ancora noto adesso, Giorgio Bernard Shaw, grande polemista e uomo di grande vivacità intellettuale. Abbiamo un personaggio straordinario come Giorgio Wells, il padre della fantascienza, autore del primo romanzo di questa sezione della storia della letteratura, che si intitola appunto La guerra dei mondi. Abbiamo Sidney Webb, uno dei padri del socialismo riformistico e borghese, diciamo così, all'inizio del ventesimo secolo. Abbiamo poi, infine direi, l'ho tenuto per ultimo perché merita un'attenzione particolare, Leonard Woolf. Perché? Perché Leonard Woolf, che è uno dei membri di questa società di Bloomsburg, il mondo della Londra intellettuale, talvolta intellettualoide, non c'è dubbio, ma non importa, ma ci sono anche personaggi come John Maynard Keynes, e quindi un ambiente di grande fascino intellettuale. Leonard Woolf pubblica un libro che si intitola The International Government, un titolo molto ambizioso. La governabilità, potremmo dire con una traduzione un po' spinta, un po' forzosa rispetto ai tempi, ma insomma che ci dà l'idea di cosa volesse dire il tentativo di pensare a un mondo nuovo, un mondo diverso che potesse essere dotato di una qualche forma di autoregolazione. Leonard Woolf è rimasto noto però non per questo libro, ma per un'altra ragione, ovvero per aver dato il suo cognome alla ben più famosa di lui, Virginia, la moglie Virginia Woolf, che lui aiutò per tantissimi anni, come certo sapete Virginia non era una persona di carattere, e di umore particolarmente facile, ma lui le si dedicò con una cura, con un affetto, con una volontà veramente straordinaria. Purtroppo un mattino che lui si era allontanato, Virginia riuscì a vincere ogni sorveglianza e a suicidarsi, come ricorderete. Arriva la guerra, dunque, e arriva anche l'idea dell'Università di Aberystwyth di accettare finalmente quell'offerta di 20 milioni di dollari che era stata fatta da Andrew Carnegie 5-6 anni prima. Questo è lo stesso momento in cui sta nascendo la Società delle Nazioni, voluta dal Presidente Wilson, che però subì subito una battuta d'arresto gravissima, direi letale, se si guarda la cosa nella prospettiva storica, letale perché il Congresso americano non ratificherà il covenant, il trattato istitutivo della Società delle Nazioni. La ragione sta in parte nella malattia di Wilson che non potesse guire l'iter legislativo di questa votazione, ma fatto sta che gli Stati Uniti, che erano tra i grandi vincitori della guerra, rimasero fuori e questo fu un danno gravissimo per il futuro di questa prima grande istituzione internazionale a vocazione universale, cioè che avrebbe dovuto, potuto accogliere tutti gli Stati del mondo. In questa situazione, come dicevo, l'Università di Averis decide di accendere un corso di relazioni internazionali, ma si trova subito di fronte a un banale, ma tutt'altro che insignificante problema. Chi chiamare su questa cattedra? Non esistono nel mondo professori di relazioni internazionali ancora. Io non ero ancora nato, per così dire, e quindi la scelta non poteva che cadere su una persona che fosse prevedibilmente predisposta per questo tipo di studi. La scelta cadde su un certo Zimmern, Alfred Zimmern, un inglese nato nel 1878, per due ragioni. La prima è che dopo la laurea si era dedicato a un grosso lavoro di storia in un libro intitolato The Greek Commonwealth, con il che si intendeva fare riferimento alla guerra del Peloponneso. Tematica dunque rilevante da un punto di vista internazionalistico, perché in fondo questo era un libro sul sistema internazionale del tempo, adesso è un po' eccessivo chiamarlo così, ma la seconda ragione per sceglierlo è rappresentata dal fatto che non essendo più Zimmern, giovanissimo, quando scoppia la guerra non è avendo più l'età per essere mandato al fronte, viene impiegato nel foreign office in incarichi di tipo politico-diplomatico e amministrativo. Comunque, la scelta è questa, Zimmern arriva, siamo nel Galles, dove lui si trova molto bene. Trova che la società, il mondo gallese è simpatico, cerca persino di studiare la lingua. Gli studenti sono contentissimi di lui, sono affascinati da questo personaggio che rappresenta una dimensione nuova della cultura politologica del tempo. Lui stesso è molto contento, dice che gli studenti sono bravissimi, vivaci, intellettualmente pronti, pieni di curiosità, di interessi, di domande, hanno solo un piccolo difetto, come al solito, come sempre dicono i professori, non sono ben preparati. E quindi c'è questa piccola critica, ma l'occasione sembra aver avuto un esito assolutamente felice. Succede un piccolo problema a questo punto. Non vi dolete del fatto che io adesso passi a un aneddoto di tipo strettamente privato, ma per noi è rilevante. Che cosa succede infatti? Succede che Zimmer si innamora della moglie di un collega, del collega di francese. La signora è tale Madame Barbier, credo che dopo tanti anni possiamo anche fare il nome. Madame Barbier è una musicologa che dicono essere una persona di grande fascino, di grande interesse culturale, piena di iniziative, molto brillante e insomma succede questa cosa. Naturalmente in un posto come una piccola città gallese l'evento è oggetto di mille polemiche, critiche, lo scandalo mondano e via discorrendo. Fatto sta che l'università chiede delicatamente a Zimmer di dare le dimissioni. Zimmer in prima battuta si rifiuta. Scrive persino una lettera piuttosto dura contro questi parrucconi del consiglio di amministrazione dell'università, ma poi l'anno dopo scende a più miti propositi, nonostante che gli studenti siano scesi in piazza per difenderlo. Quindi la contestazione universitaria come vediamo era già in piena attività. Comunque Zimmer se ne va, avrà un decennio all'incirca di vagabondaggio accademico naturalmente nel mondo, specie negli Stati Uniti, dove la disciplina a questo punto fiorisce. Basti pensare che nel 1925-26, non ricordo bene, le università che impartiscono corsi di relazioni internazionali negli Stati Uniti sono ormai 120. Per rendervi conto di cosa significa questo numero, è sufficiente che vi dica che in Italia questa disciplina verrà inaugurata nel 1973 con tre incarichi di insegnamento, uno dei tre era il mio effettivamente, e soltanto nel 1975 Umberto Gori, Antonio Popisca e io diventiamo i primi tre ordinari di relazioni internazionali. Devo aggiungere che rimanemmo tali per tantissimi anni, oggi ci sono più insegnamenti, ma le condizioni della vita universitaria sono anche molto cambiate, quindi comunque questa disciplina è sempre rimasta una disciplina come dire molto colta ma un po' isolata e quindi colta nel senso di affascinante, piena di attrattive e di curiosità, perché capire come va dal mondo, cosa sia la guerra, questi temi qui e naturalmente qualche cosa di estremamente interessante. Quando Zilman se ne va succede una cosa curiosa, succede che di nuovo c'è il problema chi chiamare a insegnare questa materia e viene chiamato a questo punto Charles Webster, uno storico, uno storico diplomatico, un uomo a sua volta di grande notorietà, un ottimo studioso. Questa chiamata viene allora interpretata un po' come un segno della vittoria degli storici sui politologi. Webster è, come ho detto, uno storico. Le relazioni internazionali sono una materia politologica da molti definita quasi come una forma di poesia, perché i concetti che la teoria delle relazioni internazionali produce sono molto astratti, complessi, poco poco dimostrabili. Ecco dunque che la polemica intorno a questa disciplina fu notevole e sostanziosa. Ma se è vero che probabilmente Webster riportò nel mondo della storia la disciplina, è anche vero che dopo Webster verrà chiamato un altro famosissimo personaggio, per il mondo degli studi, che è Carr, quel Carr che è l'autore della più grossa storia della rivoluzione russa. Era anche un notissimo e influentissimo giornalista internazionale e viene dunque chiamato a riprendere lo sviluppo di questa disciplina. La cosa interessante e significativa è che, anche se dobbiamo per questo fare un piccolo salto in avanti, Carr pubblica nel 1939 un libro intitolato di 20 years crisis, la crisi dei vent'anni. Parlando nel 39 di crisi dei vent'anni significa che si riferisce al periodo 1919-39, scusate della banalità, ma questo per dire che Carr intuisce o è consapevole del fatto che quello è un periodo compatto e conchiuso in se stesso. È una storia che ha avuto un inizio e già una fine. Il libro esce prima del primo settembre del 39, cioè del giorno in cui scoppierà la seconda guerra mondiale. In questo libro, per noi è particolarmente importante, a parte il fascino dell'intuizione dell'autore, che lui rappresenta le due posizioni fondamentali che da quel momento in poi si svilupperanno nella disciplina delle relazioni internazionali. Si tratta di due scuole che sono tutt'ora in campo e che continuano a battagliarsi tutti i giorni e che si chiamano la teoria idealistica delle relazioni internazionali e la teoria realistica delle relazioni internazionali. Attenzione, quando dico teoria idealistica naturalmente non faccio alcun riferimento alla filosofia idealistica, niente Schelling, niente Hegel, così come invece, idealistica viene in questo caso semplicemente una specie di epiteto, nel senso che idealisti vuol dire quegli ingenui, quegli illusi, idealisti, come si dice nel linguaggio comune. Dall'altra parte, i realisti possono vantare invece un retaggio storico immenso, perché il primo grande realista può essere ben considerato, niente meno che tucidide. Tra queste due scuole, la prima delle quali ritiene che la natura umana sia fondamentalmente buona e che dunque, modificando le strutture governative, le strutture burocratiche, sarà possibile avvicinare progressivamente il mondo alla pace. Una specie di kantismo ingenuo, di ottimismo kantiano ingenuo. Dall'altra parte c'è invece l'idea propugnata prima di tutti e più che tutti da Hans Morgenthal, che sarà poi il più famoso degli studiosi di relazioni internazionali nel mondo, che ritiene invece che le cose stiano in termini esattamente opposti. Cioè la natura dell'uomo è quel che è, cioè egoista, aggressiva, talvolta malvagia e comunque bellicosa. Per cui poche storie, poche illusioni, la guerra dominerà sempre il mondo. Devo dire che purtroppo questo tipo di situazione o di atteggiamento è ancora piuttosto diffuso adesso e che queste polemiche tra le due scuole non si siano ancora esaurite e probabilmente non si esauriranno mai, anche perché hanno a che fare con un problema sul quale è difficilissimo dire una parola definitiva, o meglio è impossibile dirla e forse anche inutile. Tutto dipende da come noi viviamo e da come riusciamo ad affrontare i problemi. Conclusivamente possiamo dire che questa disciplina è stata immaginata e deputata per affrontare i problemi della guerra, nella speranza che li si potesse in qualche modo fermare, arrestare, spostare dalla loro naturalezza, ma le guerre hanno sempre guidato la storia, e che quindi sia una disciplina destinata a vivere in angustia, cioè sempre con grandi preoccupazioni per tematiche che hanno sempre a che fare con la possibilità della sopravvivenza addirittura degli esseri umani sul pianeta. Vorrei lasciarvi con una frase di Zimmern che dà un po' la definizione della disciplina. Le relazioni internazionali cui siamo interessati non sono costituite né da quegli speciali rapporti che gli studiosi intrattengono tra di loro, né da quelli generici che hanno interessato le nazioni nel corso della storia. Non ci interessa quindi né la politica accademica, né la storia mondiale, ma i rapporti che oggigiorno intercorrono tra le genti. Come non concludere, dato che siamo più di un secolo dopo da quelle parole, che i rapporti tra le genti sono un aspetto dei problemi della contemporaneità, quelli dei movimenti dei popoli, delle migrazioni, e anche dei pericoli sanitari mondiali, come l'epidemia nella quale stiamo vivendo in questi giorni. Come dire, tanti auguri, cento di questi anni ancora, viene da dire, per le relazioni internazionali e se possibile ancora di più.